Con la pesce di Martino, musica leggerissima, sì, chiudi la porta, bravo Maseri, ha chiuso la porta, ma giusto, 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 perché ha chiudi la porta perché è entrata l'ospite che però pensa di vivere al Colosseo e ha lasciato la porta aperta. Buongiorno a Iribi. Buongiorno a tutti, bentrovati, oggi è il 22 dicembre, che bello, per moltissimi l'ultimo giorno di Natale e io sono tra loro. L'ultimo giorno di Natale, l'ultimo giorno di Natale. Scusate, l'ultimo giorno di lavoro e io sono tra loro. Infatti devi fare il tuo lavoro anche qua però e raccontarci un po' quali sono, lascio a te il nome e il titolo della tua rubrica giornaliera. Gli eventi della settimana a cui io, Iribi non andrei. Ok, rubrica non giornaliera, quella è settimanale, che Iribi tiene qui con noi a Good Morning Milano. Allora, quali sono gli eventi della prossima settimana, magari un po' allungata, non lo so? Ma in realtà nì, nel senso ho voluto un po' escludere tutte le cose di Natale, cioè ce ne sono per forza ma ce ne erano molti di più, ma alcuni che li ho tenuti perché sono molto divertenti i titoli. Ok, dopodiché siamo bravi a fare questo mestiere, cioè la settimana di Natale noi diamo consigli che non c'entrano nulla con il Natale. No, 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 c'entrano tutti con il Natale, semplicemente non ho detto le solite piste di pattinaggio, i soliti mercatini. Grazie, allora ti ringraziamo per questo. Di base questi sono gli eventi di questa settimana, però da ieri fino a domani c'è un evento che magari a molti di voi interessa, a me non piace molto perché in realtà sono appassionata di musica, ma non mi piace andare a vedere soltanto spettacoli musicali che non sono concerti, attenzione, perché Milano suona Walt Disney. Milano suona Walt Disney. Walt Disney, ok, al teatro Martinit. Portate tutti i bambini, siate tutti felici, andate tanti di voi che hanno un po' di malinconia per i film di Walt Disney e possono andare. Sappiamo che tra questi non c'è Lorenzo. No, ma ieri non ho mai visto un film di Walt Disney. Mio padre si è arrabbiato recentemente perché dice che invece, tipo Pinocchio, lo vedevo a ripetizione. Io non me ricordo questa cosa. Ah, vedi, vedi, vedi che si scoprono altarini. A parte un paio di cose, potrebbe essere una storia reale. Un paio di cose. Va bene, non voglio indagare su cosa, andiamo avanti. Ok, poi c'è questo evento che mi ha colpito in realtà per il titolo. Ve lo leggo così come è scritto. L'A L'A Magia del Natale in stalla. Mi sono chiesto, ma perché L' apostrofo? Poi ho capito, chi è che l'ha organizzato? L'Agricola L-A Divie di Lainate, non so se la conoscete, è un ristorante, bar, azienda agricola. Azienda agricola, dietro appunto, dietro c'è anche tutta una coscia con gli animali e fa il Natale in stalla. Quindi domenica 24-12, dalle 10 potete andare a vedere, credo sia la ricreazione, insomma, del presente. Ma non lo so, la stella delle stalle forse era più bello chiamarlo così. Candidati a social media manager. No, art director, art director dell'Agricola. Poi, per sempre il fatto che non mi piacciono i musical. Ok. C'è il musical di A Christmas Carol. Beh, però A Christmas Carol... E' tra il 26 dicembre, non so dove perché non l'ho scritto. Ma come? Trovatevelo? Cioè, questo è il consiglio. No, vabbè, famosissimo, tanto lo troverete. Ma come fate ad andare a vedere i musical? Beh, però A Christmas Carol ci sta. No, no, non ce la faccio. Non l'hai visto. Sì, solo quello, poi basta. Poi va avanti così per due ore. Ah, ok. Io non ce l'ho presente, però i musical dal vivo, secondo me... SOS Fantasmi non l'hai mai visto il film? SOS Fantasmi? Bill Murray... No, non lo può vedere neanche quello. Sì, Fantasmi non esiste. E' ispirato a A Christmas Carol. Scusami, una cosa che non c'entra, non hai mai visto i Ghostbusters? No. È la stessa cosa che mi dice Fabio. No, non l'ha mai visto. Ma aiuto. Non l'ha mai visto, no. Poi c'è un evento molto divertente, che però io mi chiedo, perché anche a Natale? la corsa per digerire il pranzo di Natale, a Santo Stefano, ok? Dove? A Santinario Milanese, che è nerviano. Sì. Il 26.12 alle ore 9.30 inizia questa corsa. La cosa più divertente è che, vabbè, ha una quota di partecipazione, 4 euro senza pacco, 7 euro con il pacco, perché ti daranno anche un pacco di partecipazione. Ah, guarda, è carina, dai. Questo è divertente, dai. Che poi in realtà non serve a niente, perché poi 9.30, corri dalle 9.30 alle 11.30 per ritorni a mangiare. Anch'io ho fatto questo regolamento. Mangia a Santo Stefano. Però se vuoi mangiare, tu sempre non so cosa dirvi. Io non faccio noi al 25 o nel 26, quindi sei tranquillo. Ma tu lo so che sei uno sfigato anche con questo. Cosa fai? Tu fai solo il 24. Solo il 24 sera. Solo il 24 sera e al 25 non si guardano in faccia. Non ho capito io. Ah, è che non ci guardano in faccia. Va bene, va bene. Ma il 24 sera sai cosa deve fare? No. Un bacio al bambinello. Un bacio al bambinello. Ecco, sempre un bacio al bambinello. Questo anche mia madre mi obbligava a farlo. Sì, sì. La madre che ha origini calabresi. Ah, vedi. Eh no, scusate. Noi ragazzi della Calabria siamo vinque. No, scusate, a casa mia tutti troppo milanesi, oserei dire a questo punto. Catanzaro comanda. No, ucco senza. Va bene. La rona padrona, chiudiamola così e andiamo avanti. Concludo con l'ultimo evento che mi ha fatto sorridere proprio il titolo. Ai magazzini generali stanno organizzando il Capodanno. Sapete come si chiama il Capodanno nel magazzino generale? Capodanno generale? No. Capodanno a New York. Ma perché? Non lo so. Tu ti vienrebbe mai di chiamare la tua festa di Capodanno, Capodanno a New York e la fai a Milano? No. Spero sia a tema, spero sia a tema. E me lo so è il tema. Guarda che Capodanno a New York era un film con anche Bongiovi, mi ricordo. Boh, non lo so, mi ha fatto molto sorridere. Grazie mille a chiunque inventa questi titoli, sia di giornali sia di eventi, perché a volte poi i giornalisti ci danno di loro. Capodanno a New York, dove? Ai magazzini generali di Milano. Spero sia a tema, spero veramente che ci siano i grattacieli sui dischi. Come fai a fare a tema? Eh no, ma appunto io so, volevo rimanere a questo. Come fai a fare a tema? Cosa ci metti dentro? I taxi gialli che passano in mezzo a... E poi la musica, cosa metti? Sì, metti la sigla di Friends tutto il tempo. La scrisma per sempre e via. Non lo so. Non puoi mettere il reggaeton e tutte quelle. Non lo so, non ho idea più di idea. Non è a tema il reggaeton. Non ho idea, infatti. No, non ho idea. Vabbè, chiudiamolo. Grazie, ho concluso. Grazie mille, Ribi, per questi preziosi consigli. Vi stupirò nell'anno nuovo. Perché? Perché sicuramente ci saranno degli eventi pazzaschi. E se riuscite, mi raccomando, andate tutti alla corsa per digerire a Nerviano. A Sant'Ilario Milanese, il 26. Cercatela su Google, perché secondo me questo è interessante. È un bel consiglio, va bene. Eri, grazie mille e buone feste. Grazie a voi, tante care cose e a te famiglia. Ecco, va bene, sempre così. Andiamo avanti con la musica, adesso è il momento dei Foo Fighters con The Glass.